Sono 2.478 i nuovi casi in Sicilia e 35.360 in tutta Italia questi dati dell'incremento rispetto al giorno precedente dei casi Covid-19, secondo il bollettino quotidiano relativo al 23 agosto, scaricabile dal sito tematico dedicato del Ministero della Salute. In provincia invece, stando all'aggiornamento dell'aspenissena sempre del 23 agosto, relativo alle 24 ore precedenti, sono 164 i nuovi pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare, 47 pazienti di Gela, 36 di Caltanissetta, 15 di Niscemi, 8 di Mussomeli, 7 di Delia, 6 di Mazzarino, 6 di Milena, 5 di Acquaviva Platani, 5 di Riesi, 4 di San Cataldo, 4 di Sommatino, 4 di Villalba, 3 di Butera, 3 di Campofranco, 3 di Marianopoli, 3 di Santa Caterina Villarmosa, 2 di Sutera, 1 di Bonvenziere, 1 di Montedoro e 1 di Vallelunga-Pratameno, 5 i ricoveri in degenza ordinaria di 2 pazienti di Mussomeli, 1 di Caltanissetta, 1 di San Cataldo e 1 proveniente da fuori provincia, 3 i pazienti dimessi dalla degenza ordinaria, 2 di Gela e 1 di Caltanissetta, guariti virologicamente. Guariti da Covid-19 in totale 34 pazienti di Gela, 19 di Caltanissetta, 19 di Niscemi, 11 di San Cataldo, 10 di Riesi, 6 di Sutera, 5 di Campofranco, 4 di Mazzarino, 3 di Delia, 3 di Mussomeli, 3 di Vallelunga-Pratameno, 2 di Butera, 2 di Milena, 2 di Montedoro e 2 di Sommatino.